Inizia il quinto anno di gestione dell'Aquila Calcio da parte dei tifosi, un modello unico in Italia che ha convinto l'ex presidente della Lega, vicepresidente della FIGC Francesco Ghirelli, a sposare il progetto diventando presidente in orario del club Rosso Blu. La presentazione oggi allo Stadio Gran Sasso, alla presenza del sindaco Biondi, del presidente Massimiliano Barberio e del copresidente Salvatore Di Giovanni, resta maggioritaria la componente dei tifosi con Aquil Rosso Blu proprietaria del logo e la trasformazione in NSSD. Ghirelli sarà il garante del progetto, gli altri saranno soci. L'occasione è stata utile per presentare anche un nuovo ingresso, l'imprenditore Lucio Messina, titolare dell'importante agenzia Viaggi del Perigeo, che ha fatto visita allo stadio ma che poi per motivi personali è dovuto ripartire alla volta di Roma. Ghirelli ha detto che è un onore essere qui. Mi hanno convinto esattamente dicendo che qui c'è un modello di azienda, di società, di club, come è stato costruito, attraverso i tifosi, attraverso un azionariato anche forte sul territorio, collegato fortemente al territorio, con la possibilità che entrino gli imprenditori. Diciamo che è quello che facendo le debiti e differenze ha fatto esplodere il calcio tedesco che l'ha fatto diventare fortissimo. Il problema di questo modello è che si deve mettere insieme le singole individualità dei protagonisti con una gestione unitaria e questa sarà la sfida. Lo stadio, siamo qui, anche questo è un bel esempio di quello che questi tifosi sono riusciti a fare. Lo stadio, il progetto di trasformazione dello stadio, la capacità di avere uno stadio che migliori sempre l'accoglienza, lo renda accessibile ai tifosi, contemporaneamente sia anche fonte di possibilità di qualche introito, che è fondamentale per mantenere questo calcio popolare e nello stesso tempo l'intervento su un altro versante importante, quello dei settori giovanili, che è un asset fondamentale, io oserei dire, per il calcio italiano oltre che per l'Aquila. Cambia l'organigramma, è vero, con Ghirelli garante del progetto e poi i soci, ognuno con la sua specificità, come si diceva, ma nessun passo indietro da parte del presidente fin qui, Massimiliano Barberio, e del copresidente di Giovanni, anzi c'è la voglia, hanno detto, di lavorare tutti insieme nella pluralità.